Santo, stanno arrivando studenti da tutta Italia o solo dalla Calabria? No, no, nonostante le scuole siano finite, la ripresa delle attività scolastiche esterne, le gite, hanno fatto in modo che hanno ripreso le prenotazioni che si erano bloccate nella pandemia. E pertanto ogni mattina, ma anche nei pomeriggi, abbiamo questi ragazzi e queste ragazze che vengono dalla Calabria sicuramente, ma da tutta Italia. Ci sono dei numeri consistenti? Sì, l'apertura fuori pandemica ha permesso il ritorno dei visitatori al museo, alle nostre attività, ma soprattutto ci sono quelli come le scolaresche che vengono a partecipare ai nostri laboratori, ai laboratori della matematica, della scienza, dell'arte contemporanea, a fare quindi le visite guidate sia nei giardini di Pitagora che al museo. Cosa dicono del museo? Ma sono estasiati, non pensavano che esistesse un museo del genere in Calabria, un museo che guarda sicuramente a Pitagora, ma con quest'occhio alla matematica, alla scienza, ma anche all'arte contemporanea. Sono estasiati anche dei laboratori didattici che facciamo, quindi un museo non passivo, ma un museo come appunto luogo di crescita per tutti. Si è chiuso un'altra settimana di concerti, come è andata? Sì, non solo concerti, attività varie, le attività sono ormai quotidiane, abbiamo un evento serale tra la presentazione di un libro, un concerto, una performance artistica, anche qui i numeri sono interessanti, centinaia di persone sono presenti la sera, che quindi fruiscono non solo della bellezza del parco, ma di questa nuova socialità che crea appunto relazioni autentiche. Una scommessa vinta? Una scommessa vinta, ormai una realtà consolidata che è stata sposata dalla comunità dei cittadini crotonesi.